Perché leggere un brano che ha più di 2000 anni? Epica. Un poema epico. Il termine epica deriva dal greco, epos, che significa parola, e in senso più ampio racconto, narrazione, è un componimento letterario in versi che narra le gesta, storiche o leggendarie, di un eroe o di un popolo, mediante le quali si conservava e tramandava la memoria e l'identità di una civiltà o di una classe politica. Un poema epico. Il termine epica deriva dal greco, epos, che significa parola, e in senso più ampio, racconto, narrazione, è un componimento letterario, in versi, che narra le gesta, storiche o leggendarie, di un eroe o di un popolo, mediante le quali si conservava e tramandava la memoria e l'identità di una civiltà, o di una classe politica. Perché leggere un brano che ha più di 2000 anni? Si pensa che il poema epico dell'Iliade sia stato scritto nel 750 a.C. Perché leggere un testo così vecchio? Perché le tematiche trattate sono ancora attuali? Amore, odio, violenza, guerre, amore dei genitori verso i figli. Basta solo questo per farci comprendere che l'Iliade è ancora attuale. Musica. Le quattro stagioni. Di Antonio Vivaldi. L'autunno. Progettazione e creazione. Professor Salvatore Francesco Toscano. Bibliografia, le informazioni e le immagini, sono tratte da Wikipedia, o altri siti. Ciao a tutti, arrivederci, ai prossimi video vi aspettiamo. Fine.